La mattina profumo di festa, apro la mia finestra, sento la gente passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti, siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica in pazza, allora tutti in piazza. Eccoci ancora insieme, appuntamento tutti in piazza, ogni fine settimana in maniera itinerante vi portiamo le iniziative enogastronomiche più belle della nostra Italia. Ad esempio quest'oggi vi portiamo alla nuova edizione della fioritura di Vignola, appuntamento importantissimo perché oltre alla fioritura, poi sapete che dopo qualche settimana quando arrivano le ciliegie non diventano più fioritura ma diventa appunto materiale da consumare preferibilmente vicino a chi vuoi bene. Si apre oggi la nuova edizione della festa della fioritura, siamo alla 53esima, quindi una festa che ormai è davvero un cuore pulsante della città di Vignola, una tradizione lunga che ogni anno ricorda e celebra l'evento più importante della nostra città e che è la fioritura dei ciliegi. Tra l'altro in questi ultimi anni davvero le nostre campagne si sono di nuovo animate, sono state di nuovo piantate nuove coltivazioni e quindi davvero la fioritura quest'anno, così come da qualche anno, è uno spettacolo. Per Vignola è un po' come rinascere, riprendere il ritmo della primavera e in attesa poi dell'estate, quando ci saranno le ciliegie mature e ancora la città sarà in festa per festeggiare appunto il frutto per eccellenza del nostro territorio. La ciliegia di Vignola. Un ringraziamento al Centro Studi che da tanti anni, da 53 anni, organizza questo evento così bello per la nostra città e che attira tante persone che siamo assolutamente lieti e felici di accogliere. Buongiorno a tutti, oggi è una giornata importante, c'è la 53esima, festa di ciliegi in fiore. È una festa ormai tradizionale per Vignola, Vignola che è terra di ciliegi, noi del ciliegio abbiamo fama mondiale, quindi partiamo da qui. Non ci sono ciliegie senza i fiori e i fiori sono tanti e belli anche quest'anno. Siamo un po' in anticipo con i fiori ma comunque sembra che la primavera sia anticipata ma i fiori sono molto belli. Noi anche quest'anno abbiamo fatto del nostro meglio, ci presentiamo con le solite sfilate dei carri che saranno domenica pomeriggio e sabato sera e la replica domenica 14. Sono molto belli, li lo state a vedere stamattina, sono veramente molto belli e vi invito tutti a visitarli. Inoltre abbiamo tante attività, tutta la città è di Vignola, sono le bancarelle, ci sono delle mostre degli artigiani e la mostra qui nel mercato sfrutticolo. Ecco, quindi siamo pronti adesso per l'inaugurazione. La fioritura davvero è una delle bellezze più importanti della nostra terra, del nostro territorio. Credo che a tutti voi, a tutti noi sia capitato in questo libro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.